Cos'è amici? Non riuscite a vincere neanche una Battle Royale? O per meglio dire ragazzi, questa nuova season, questa nuova capitolo 2, stagione 3 di Fortnite non vi sta piacendo, non riuscite a macinarlo, non riuscite a comprendere cosa dovete fare per vincere qualche piccola, casuale Battle Royale? Ebbene ragazzi, vi dirò un piccolo segreto. Anche i pro gamers fanno fatica ogni volta ad adattarsi a queste nuove meccaniche perché sì, Fortnite è un gioco estremamente dinamico che tende a cambiare molte delle sue meccaniche di gameplay ed è per questo che ci piace così tanto, perché è sempre nuovo e fresco e quindi per cercare di vincere le Battle Royale ragazzi bisogna adattarsi, bisogna studiare e qui quest'oggi accoriamo noi di Sport It a Passion in vostro soccorso perché sì ragazzi, vogliamo portarvi a vincere qualche Battle Royale in più ed ecco quindi i consigli che vi aiuteranno davvero tanto a vincere qualche Battle Royale nel famosissimo Fortnite in modalità solo Ebbene sì, vincere una Battle Royale in single player e quindi giocando singolarmente ragazzi è molto più difficile che se non vincerla in gruppo, in coppie o in squadra perché effettivamente una volta che qualcuno ci colpisce, beh siamo belli che morti per cui non è che possiamo essere ritirati su, non abbiamo una seconda occasione non scende la card e qualcuno può rigenerarci non è che qualcuno ci dà il suo loot per cercare di ripristinare la vita o lo scudo oh oh oh, assolutamente no ed ecco quindi il primo consiglio se pensate che giocare in single player la modalità solo sia uguale a giocare la modalità a squadre beh scordatevelo dalla testa per cui ragazzi non giocate aggressivi per cui ragazzi dovete studiare la mappa per cui ragazzi non buttatevi a capofitto in mezzo alle aree più piopolose perché sì ragazzi indubbiamente molti di voi si buttano praticamente all'inizio appena ci si può buttare giù dal bus e lì si concentrano tanti player soprattutto nelle grandi città quello che dovete fare invece è osservare e con attenzione ma soprattutto studiare una strategia per cui attenzione guardiamo a destra e a sinistra magari un paio di volte evitiamo ragazzi di essere circondati o di prenderci una fucilata di pompa in the face e poi voilà iniziamo a giocare iniziamo a giocare osservando studiando ma soprattutto senza andare di impulso indubbiamente questo primo consiglio era davvero al bacio ragazzi ma questo che sta arrivando è ancora meglio ed è effettivamente una di quelle cose che senza alcun dubbio deve essere assolutamente studiata e deve anche esserci una strategia da parte vostra e cioè quello dell'atterraggio e del looting perché ragazzi con una buona arma io non dico che si può vincere ma si potrebbe vincere con un pochetta più di facilità immaginatevi dei giocatori che si affrontano con dei fucili a pompa beh è molto probabile che il giocatore con il fucile a pompa tattico viola vincerà contro quello bianco ammesso e non concesso ragazzi che abbiano la stessa mira e questo perché? perché la differenza, la cadenza quindi la possibilità di uccidere il nostro nemico ovviamente è più alta se abbiamo un lott migliore ed ecco qui ragazzi che entriamo direttamente nel consiglio ebbene ragazzi come vi ho già detto evitate le città perché sono i punti più affollati dove la gente va sicuramente al 100% e allo stesso tempo evitate pure tutto quello che sta sotto il tragitto del bus perché sono quelli dove i player tendono a calarsi con maggior facilità per cui ecco qui prendete il primo consiglio e fondetelo con questo iniziate ad andare a 1000-1200 metri di distanza e andate fuori dalla portata del bus andate via da tutto quel miasma di giocatori ragazzi che all'improvviso inizierà a spararsi a destra e sinistra e voi non saprete che cosa vi ha colpito no, cercate di andare un po' più lunghi e dopo di che ragazzi prendete un'arma una a media corta distanza una a breve distanza e una alla lunga distanza potete scegliere voi ragazzi charge shotgun o fucile tattico scegliete voi mitraglietta o mitragliatore potete scegliere fucile da caccia o fucile da cecchino anche qui scegliete voi e allo stesso tempo ragazzi mi raccomando anche qui per quanto il loot possa essere incredibile ipotizziamo che voi avviate 5 armi leggendarie o mitiche nel vostro inventario beh buttatene via 2 perché appunto non c'è nessuno che vi può fornire shield shieldini o medikit o qualcos'altro per cui 3 slot vanno occupati per le armi a vostra scelta mentre gli altri 2 vanno occupati appunto per un medikit oppure gli shieldini oppure ragazzi una jumper oppure ragazzi qualsiasi altra cosa voi vogliate come ad esempio il super barilozzo che vi permette di rimpinzare vita e scudo al 100% ecco quello è davvero ottimo per cui ragazzi dovete essere pronti a ogni evenienza perché se vi capita un avversario ostico davanti a voi beh il loot e la modalità con cui l'avete raccolto sicuramente faranno una grande enorme differenza tra la vita e la morte terzo punto ed è forse il tips più importante che vi posso dare per cui ragazzi ho orecchie ben spalancate usate il cervello sì lo so è un muscolo che in pochi utilizzano soprattutto perché siamo in fortnite e soprattutto perché molti di voi ragazzi sono molto giovani sono molto impulsivi ed è qui ragazzi che arrivano i consigli che vi ho appena dato più i consigli che vi ho dato nel video degli orrori da non fare in fortnite prima cosa assolutamente da non fare buttarsi a capofitto sul luto migliore oppure buttarsi sull'air drop no ragazzi no in solo non potete fare questa cavolata perché se voi passeggiate allegramente in mezzo al prato e vi colpisce un fucile da cecchino e poi morite beh la colpa è solo vostra e nessuno vi tirerà su allo stesso tempo ragazzi anche quando vedete l'air drop sì guardatelo osservatelo osservate bene la situazione vedete dove va a cadere e poi magari preparatevi o perché no appostatevi per vedere se arriva qualcuno allo stesso tempo ingaggiare un nemico è cosa davvero molto importante voi pensate che fortnite sia essenzialmente un call of duty dove basta sparare a destra e sinistra o no assolutissimamente no ragazzi una vita e una vita e l'avete solamente su quella partita fa anche rima per cui amici prima di inghezzare un nemico magari con un fucile a pompa e questo sta a 150 metri io mi avvicinerei un pochettino o allo stesso tempo se vedete due player combattere beh aspettate che finiscano il loro combattimento sicuramente il player vincente a meno che non sia il ninja della situazione ha perso qualche pezzo di vita o magari totalmente lo scudo e voilà voi basta un fucile e la caccia ben piazzato in the face e voilà avrete ucciso anche il secondo player non vi mischiate nella battaglia state bene attenti appena sentite il rumore dei passi nelle vostre cuffie voi iniziate a studiare dov'è e iniziate a fargli un bell'attentato magari prendetelo dietro le spalle e poi fategli buia caglio tobi e poi lo ammazzate facile facile ebbene si ragazzi questo è forse il tips più importante in assoluto da fare e posso anche comprendere che sia il più difficile in assoluto da mettere in campo ma allo stesso tempo se riuscirete a stare un attimino calmi un attimino tranquilli analizzare la situazione e quindi allo stesso tempo avere il controllo tattico di quella partita sicuramente ne uscirete più che vincitori ultimo grande consiglio che vi posso dare senza ombra di dubbio è quello di stare attenti alla safe quindi ragazzi la rotation come la chiamano in America in Inghilterra state ben attenti alla vostra strategia prima cosa importante ragazzi la strategia della rotation o comunque di come volete andare avanti nel vostro game nella vostra partita beh parte già dal momento in cui vi buttate dal basso per cui ragazzi si potete anche puntare ai tre punti mitici dove ci sono i bot e potete puntare ad aprire il cavo certo ragazzi state ben attenti a dove mettete i piedi perché i bot sono aggressivi perché i bot sono davvero molto bravi sono anche davvero molto numerosi ma se ci riuscite beh avrete per le mani un fantastico loot per cui ragazzi decidete dove andare l'avete fatto molto bene adesso ogni santa volta che sentite il rumore tipico della chiusura della nuova safe beh guardate cosa dovete fare la mappa è cambiata in maniera estremamente drastica ci sono meno elicotteri certo ci sono molte più barche ma allo stesso tempo potreste essere in un posto dove magari un altro player vi ha rubato la possibilità di muovervi velocemente e allora voi cosa fate vi muovete fino alla safe magari la seconda e la terza e rischiate di morire fuori dalla nube ma assolutamente ma che morte ignobile non è per cui ragazzi ogni santa volta che voi sentite il rumore del ristringimento della safe guardate subito quanto ci mettete c'è del mare c'è una montagna in mezzo o c'è ad esempio qualche postazione dove alcuni player potrebbero essersi posizionati beh ragazzi anche questo ne decreterà la vostra vita o la vostra morte certo ci sono anche quei player un pochetto più cattivelli come il sottoscritto che adorano stare un attimino nei margini della safe e muoversi proprio all'ultimo ragazzi questa è una buona strategia perché falcerete tutti i ritardatari che cercano appunto di entrare nella safe ma state ben attenti mi è successo davvero tante volte e succederà sicuramente anche a voi nei combattimenti si inizia a perdere la cognizione del tempo per cui potrebbe essere che ad un certo punto vi ritrovate la safe che si sta restringendo ed eccolo lì il miasma e voi siete ancora intenti a sparare a quel personaggio che avete appena incontrato e che voi volevate shottare ragazzi questo vuol dire solo una cosa che sia voi sia il vostro nemico morirete fuori dalla safe e quando ragazzi questo succede beh dovete fare solamente il mea colpa mea colpa mea grandissima colpa insomma ragazzi si potete giocarla come volete ma senza alcun dubbio la gestione di dove andare se voglio andare da una parte oppure dall'altra se voglio aspettare i player se voglio oppure posizionarmi prima di tutti gli altri cosa davvero molto comune per molti videogiocatori beh state bene attenti perché come vi dicevo potrebbe esserci che qualcuno si è già messo lì si è già accapparrato ha già fatto queste enormi torri che ogni tanto ragazzi in qualche partita si vedono beh ragazzi lì sta voi decidere come muovervi ma state sempre ben attenti a come vi muovete perché nelle partite in solo beh se mancano 5 player e uno è in mezzo e voi sapete che è lì in mezzo che sta cicchinando qualcuno fatevi furbi non attaccatelo magari andategli sotto buttategli giù completamente la costruzione e vedrete ragazzi che magari non dico vincerla ma tra gli ultimi tre finalisti al 100% ci arriverete una cosa è certa ragazzi sentendo e vedendo molte partite di giocatori professionisti e non molti di noi tendono a morire appunto per questi problemi per queste strategie non esattamente calibrate al 100% e anche molti tendono a morire fuori dalla safe zone perché si sono presi tardi perché volevano loot perché sono ingordi o perché ragazzi sono stati poco attenti a quello che hanno raccolto per cui ipotizziamo che arrivino dentro la safe ragazzi con anche zero scudo e pochissima vita insomma amici la strategia è il punto fondamentale del giocare in single player e vedrete che pian piano pian piano mollichella mollichella migliorandovi sempre di più ed evitando questi orrori ma anche quelli che vi ho citato negli altri video sicuramente migliorerete ogni giorno sempre di più e alla fine una battle royale in singolo la porterete al casa garantito al 100% che dite ragazzi questi tips per questa nuova season vi sono piaciuti? beh che dire fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo mega video ciao